L'imbarca d'era un tempo era un porto molto frequentato, pieno di navi che caricavano e scaricavano passeggeri e tonnellate di merce. Oggi è un lungomare molto ampio, a tre corsie, che si può percorrere per intero da Market Street al Ferry Building fino al pontile dei pescatori, il Fisherman Wharf. Il luogo è il punto ideale per vedere passare le navi. Il luogo è il punto ideale. Il clima a San Francisco non può certo vantare i cieli blu e le temperature calde tipiche della California. La città, infatti, è circondata su tre lati dall'acqua e quindi c'è sempre un vento fresco che sferza la città. Il clima è tra i più stabili al mondo, con temperature che non superano quasi mai i 16 gradi durante il giorno. Una delle città più belle e romantiche degli Stati Uniti. San Francisco ha molto di cui vantarsi. Sospesa sulla punta di una penisola sulla West Coast degli Stati Uniti, l'area che circonda la città è caratterizzata da diversi scenari naturali, coste rocciose, le acque tranquille della baia, le colline coperte di nebbia ed alcune impenetrabili foreste.